ciao a tutti da davide di audiocostruzioni oggi voglio presentarvi degli accessorietti per per giradischi e per il lettore cd accessorietti che visto che siamo a casa tutti a fare praticamente niente magari possono essere utili e anche neanche tanto costosi perché è tutta robetta diciamo che diciamo ci può far divertire senza spendere un'esagerazione l'upgrade più importante che noi possiamo fare nel nostro giradischi è sicuramente la testina cosa succede molte volte nei giradischi mettono delle testine insieme ai giradischi che nel 99 per cento dei casi come posso dire sono proprio entry level no faccio un esempio i torrents montano la testina l'audio tecnica insomma che sono carine però i rega montano delle testine anche lì dell'audio tecnica proprio economiche no quindi se vogliamo fare un leggero upgrade anzi un grande upgrade abbiamo fatto vedere anche nei video scorsi per esempio proprio a riguardo i rega la sostituzione della testina che che beneficio traeva però per esempio delle testine interessanti che noi vediamo molto bene no possono essere le sumico per esempio che fanno tutta una serie anche costosissima ma dal buon rapporto qualità prezzo faccio un esempio la oyster costa 80 euro parliamo di prezzi scontati la black pearl siamo a 95 euro che questa qua la perle siamo a 115 euro sono testine diciamo centrati centrate no cioè che non hanno non sono né troppo coupe né troppo brillanti non sentono troppo i dischi rovinati insomma mi sento proprio di consigliarlo c'è un bel suono dinamico per quanto riguarda la gold ring che ha una cosa che è molto molto furba cioè ha il filetto praticamente incorporato nella testina quindi il montaggio è ancora più semplice però però non può andare in questo tipo di scelle no perché non hanno il foro sopra comunque detto questo la gold ring e3 a 115 euro è veramente una ottima ottima testina poi ci sono le ortofon no viene a vedere teo seguimi per esempio la 2m red no qui montata anche di serie sul technics sl 1500 anche questa è una testina che siamo a toni 130 euro adesso non prendetemi bene questo dovrei guardarci ma se me lo chiedete vi dico quanto costa sono tutti ottimi upgrade veramente vendevamo anche le audio tecnica ma purtroppo l'importatore è cambiato e adesso non non le vendiamo più va bene detto questo andiamo avanti altri upgrade che si possono fare al nostro giradischi i cristalli no abbiamo visto che mettendo dei cristalli questo è la versione da 12 mm con i piedini in pvc no sotto si diminuisce molto vibrazioni oltre che a giovarne esteticamente il giradischi ne ne giova anche a livello sonoro un piano in cristallo come questo da 12 mm costa papapapapa è una misura 450 370 che ho visto che va bene per la maggior parte dei giradischi costa 65 euro mentre scusate invece con con i quattro piedini in pvc costa 70 euro da 15 mm 85 euro e da 20 mm 105 euro va detto che di solito noi vendiamo il 12 mm questi ripiani oltre che per andare bene per i giradischi possono essere anche usati per i lettori cd oppure per gli amplificatori naturalmente non hanno un risultato sonoro come nel giradischi però diciamo che esteticamente guadagna veramente veramente tanto parliamo di altri accessori che possiamo usare nel nostro nel nostro giradischi abbiamo i matt in sughero no anche questi contribuiscono a togliere queste queste risonanze queste vibrazioni e a migliorare leggermente il suono mi pare che costano 35 euro come tutte le cose cioè non è non è matematico che voi mettiate su questo e migliora il suono sono prove che gli audiofili fanno ok a volte ci si azzecca al cento per cento a volte al 50 per cento a non contano un bel fico secco ecco questo è la pura verità però sono upgrade il giradischi diventa anche molto bello col matt in sughero che si possono fare clamp eccoli qua ne abbiamo di svariati tipi no questi li facciamo noi in alluminio ok li facciamo di un peso che più o meno su tutti i giradischi normali possono andare bene sono molto belli fanno stare giù il disco no e ne ne giova molto il parallelismo ok chiaro se avete un disco imbarcato niente c'è proprio imbarcato all'ennesima potenza niente però questi fanno mi pare che siamo attorno ai 40 euro no poi ne abbiamo fatto uno con le 100 lire che è carino per esempio oppure questi che addirittura hanno anche la bolla hanno lo stroboscopio hanno diciamo l'elastomero qui siamo attorno ai 60 euro che funzionano veramente molto molto bene anche questi e possiamo anche controllare se il nostro giradischi è in bolla tanto per dire oppure addirittura il funambolico mauro mauri di omicron ha fatto il suo clamp stabilizzato no usa un po lo stesso sistema dei magic dream che dopo vi andrò a spiegare il funambolico mauro mauri vende quella crocchio lì a o meno vediamo anche noi perché siamo punto vendita adesso ve lo dico prezzo del clamp di mauro mauri della magic dream costa 102 euro di listino ma li riesco a fare una bella scontistica poi ultima cosa le spazzoline ok queste qua sono in carbone sono molto comodo perché perché ci puliscono il disco no li abbiamo costano 15 euro cada una sono molto molto forme adesso andiamo a vedere invece il funzionamento dei magic dream magic dream sono degli accessori particolari no composti da due parti più una sferettina vedete sferettina al centro che hanno questa caratteristica vanno messi tre alla volta sotto le elettroniche vedi in questo caso ne abbiamo messo uno davanti due di dietro oppure se ne possono mettere due davanti uno dietro non cambia niente cosa fanno vedete la soprattutto sotto il lettore cd fanno sì che il tutto possa essere cioè diciamo quasi flottante anzi togli quasi flottante cosa succede che quando abbiamo un cd no soprattutto quelli centrati che noi non ce ne accorgiamo perché vanno dentro e gira eccentrico il magic dream ci aiuta ci aiuta praticamente alla lettura no di questo cioè la lente riesce a seguire meglio il nostro cd non solo diciamo che da una mano con il discorso vibrazioni in definitiva in definitiva queste sono tutte parole che dovrebbe dirvi mauro mauri che li ha inventati progettati quant'altro io ne ho venduti parecchi quando li vendo da mettere sotto il torri cd un upgrade c'è praticamente sempre quindi mi sento di consigliare vanno bene anche per gli amplificatori e quant'altro certi lo mettono addirittura dovunque sulle altre elettroniche io non vi so dire che tipo di mirollamento ci sono perché non ho avuto i tanti feedback ecco però quando li ho venduti da mettere sotto i cd ho sempre avuto ottimi risultati praticamente ce ne sono di tre tipi no questa è la versione classica magic dream classico no ok con la sferetta in due parti ok e a un costo di listino di un set da tre pezzi 82 euro però di solito lo vendiamo attorno ai 22 25 euro cada uno ci sono i reference che sono uguali a queste qua è solo che hanno un cappellotto che va un po più a chiudere la sfera ma ecco ma sempre stesso funzionamento costano qualcosa di più saremo attorno ai 26 27 euro cada uno poi dopo abbiamo questa serie qua completamente in lega no cromati bellissimi che si chiamano md classic golden platinum no purtroppo costano 385 euro la serie da tre pezzi ok poi chiedete perché c'è una buona scontistica saremo attorno ai 300 euro un altro accessorio sempre interessante del funombolico mauro mauri lo stabilizer no è un accessorio sempre legato alle vibrazioni e al miglioramento delle prestazioni no che vedete va messo sopra gli apparecchi anche sopra i diffusori per avere un miglioramento delle prestazioni non costa molto questo mondo di pazzi attorno i 100 euro ok è un altro giochino che potete fare le vostre prove per i vostri miglioramenti molto bene spero di avervi aglietato con queste diciamo stupidate qua seguitemi sempre iscrivetevi al mio canale youtube è un saluto da davide filippo e matteo di audiocostruzioni grazie a tutti grazie a tutti